A Stavanger, in Norvegia, si trovano le iconiche Svardi Fjell, note al resto del mondo come Spade nella roccia. Inaugurato nel 1983 dal re Olav V di Norvegia, è un monumento commemorativo della battaglia medievale di Hafsfjord, tramite il quale la Norvegia occidentale fu unificata sotto un'unica corona. Nonostante si dica che l'unificazione della terra abbia richiesto molti secoli, Harald Ferrer è ampiamente accettato come il primo re legittimo della Norvegia, e il suo regno durò quasi 60 anni. In suo onore, dopo mille anni dall'unificazione, venne inaugurato l'Haraldsaugen, ad Hagesund. Oggi, le spade nella roccia sono una meta turistica. L'opera di Fritz Road è alta 10 metri e non può essere in alcun modo rimossa dalla sua solida base rocciosa. Le spade simboleggiano la pace e l'unità di una gloriosa Norvegia.